Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo insieme di un po' di dubbi che continuano a essere sulla bocca dei giocatori di Fortnite riguardo un bel po' di set di skin che tanti di noi vorrebbero avere Sto parlando ovviamente ragazzi delle skin più ambite del nostro Fortnite quelle che ci accompagnano nelle partite dalla season 1 ma che sono anche arrivate con degli eventi speciali o delle ricorrenze particolari nel gioco che quindi hanno potuto dare vita a nuovi eventi e nuove skin che purtroppo non tutti sono riusciti ad ottenere Voglio parlare ragazzi innanzitutto tutto questo tutto questo discorso parte ragazzi dal nostro renegade dal nostro agente ribelle l'abbiamo visto ragazzi l'abbiamo visto tutti che da poco è uscito La gente ribelle nello shop qualche giorno fa lo abbiamo trovato nello shop e ha un pochettino spiazzato tutti noi giocatori di Fortnite perché la gente ribelle non sarebbe mai dovuto uscire nello shop Nessuno di noi pensava che un pack da 5 euro vi ricordo che la gente ribelle ragazzi è stato è stato il primo uno dei primi se non il primo starter pack di Fortnite che dava oltre alla skin che stiamo vedendo in questo momento anche il backpack catalizzatore e 600 V-Bucks La cosa che ha spiazzato un po' tutti noi giocatori è appunto il fatto di poterlo ritrovare al costo di 1500 V-Bucks nello shop Questo ci fa pensare che tutti gli starter pack che sono stati proposti quindi le Ace quindi ad esempio il nostro aviatore tutti gli starter pack che hanno messo a pagamento potrebbero senza nessun problema tornare nello shop di Fortnite e quindi essere acquistati in futuro per i V-Bucks E già questa ragazzi è una notizia veramente veramente interessantissima ma ce n'è un'altra di skin ragazzi il primo set di skin che tutti noi ragazzi vorremmo ovvero sia ragazzi parlo del Renegade Raider Lo stiamo vedendo in questo momento ragazzi il Renegade Raider arriva il 2 gennaio del 2018 nello shop di Fortnite ed era disponibile ragazzi nello shop speciale di Fortnite Perché nella season 1 lo shop era diviso in due grandi faldoni chiamiamoli così Lo shop normale quindi l'item shop classico e poi c'era il season shop che sarebbe lo shop stagionale In questo caso ragazzi era presente il Renegade Raider e molti ci sono chiesti ma questo Renegade Raider uscirà di nuovo ovviamente una skin portata alla fama dal nostro bene Amato Ninja che l'ha utilizzata per tantissimo Diciamo ragazzi che se volessimo parlare del Renegade Raider la mia idea è che non penso ragazzi che venga riportato come skin per un motivo molto molto semplice Infatti stiamo vedendo adesso ragazzi lo shop stagionale per un motivo molto molto semplice Un po' di tempo fa ma andiamo un pochettino avanti ragazzi il video Un po' di tempo fa uscì nello shop il Mako questo ragazzi è un deltaplano della season 1 Per errore gli sviluppatori di Fortnite misero il Mako nello shop rimase nello shop per pochissimi minuti Perché ragazzi venne rilasciato un comunicato ufficiale immediatamente dopo Eccolo qua ragazzi che dicono Including the Mako Glider in the daily eat item for today was a mistake January 2 quindi era il 2 gennaio anche dove c'era il Mako Glider Era un errore per noi lo rimuoveremo subito Quindi ragazzi ci dicono in poche parole quelli di Epic Games che il Mako Glider che era stato inserito nello shop Così come ragazzi tutti gli oggetti speciali della season 1 e season 2 Queste erano parole che dicevano circa un mese fa un paio di un anno fa Dovevano rimanere solamente oggetti speciali E' anche vero però ragazzi che abbiamo visto che il Cavaliere Rosso e il deltaplano Outroad sono tornati nello shop Credo che abbiamo deciso di tenere alcune skin e oggetti esclusivi per la season 1 e 2 E comunque non metteranno mai gli oggetti e le skin che si potevano acquistare nello shop della stagione Quindi non nello shop normale E purtroppo ragazzi credo che il Renegade Raider non lo vedremo più Passiamo avanti ragazzi ancora con un set di skin molto molto interessante Sto parlando ovviamente ragazzi della Skull Trooper e della Ghoul Trooper Un set di skin forse il più ambito dai giocatori di Fortnite Anche perché è veramente molto molto cool Ed era un set di skin ragazzi che si trovava nell'evento speciale di Halloween Quello che durò dal 31 ottobre 2017 al 4 novembre 2017 Per quell'occasione Fortrait cambiò anche veste Misero un nuovo sfondo nella lobby Misero il lanciazucche Le skin appunto che vi sto dicendo Quello che penso ragazzi è Se noi andiamo a vedere ragazzi la descrizione delle skin Skull Trooper e Ghoul Trooper Ci viene detto Per lo Skull Trooper costume Skull Trooper Per la Ghoul Trooper costume Ghoul Trooper Quindi ragazzi i filli niente di esagerato una volta diciamo Non mettevano delle descrizioni così ampie Ma se andiamo a vedere ragazzi la descrizione della falce La descrizione della falce dice È un strumento di raccolta Strumento di raccolta di risorse e anime Con piccone mietitore in edizione limitata Quindi ragazzi in questo modo Se noi andiamo un attimo a vedere la parola limitata Non vuol dire esclusiva Per una cosa limitata si parla si intende Una roba che esce in un determinato numero Appunto di copie tra virgolette Oppure in un determinato evento Questo è preso dal dizionario Però il problema è che ragazzi Se noi andiamo a vedere le altre skin Che sono state rilasciate per gli eventi Quindi parliamo della skin dei conigli pasquali Oppure della skin del Love Ranger e dell'orsetto Per San Valentino Sono state riproposte Mentre invece la Renegade Raider E la Gold Trooper Non sono mai state rimesse nello shop Quindi ragazzi Penso che anche per queste skin Sia veramente da metterci una pietra sopra Veramente difficile Che tornino nello shop Proseguiamo ragazzi Ancora per le skin del Battle Pass Sto parlando del Cavaliere Nero Sto parlando di John Wick Di Omega Insomma le skin che si ottenevano Al raggiungimento del livello 100 Del Pass Battaglia Queste ragazzi diciamo che abbiamo Un pochettino più le idee chiare Perché se andiamo ragazzi Direttamente A vedere Il nostro Lasciamo perdere queste le nostre skin Andiamo nel Battle Pass Fuck Quindi nelle Frequently Asked Questions Le domande più frequenti utilizzate nel Battle Pass Troviamo una voce che ci dice The exclusive cosmetic item You earn from a Battle Pass Are yours to keep forever And will not be obtainable Again Le skin ottenute nel Battle Pass Non verranno più proposte Non sarà più possibile Ottenerle in stagioni Future Quindi ragazzi Tolto il dubbio E per chiudere ragazzi il video Le skin di Natale ragazzi Anche queste Le abbiamo cercate Le stiamo cercando Ogni tanto Vediamo qualcuno Che ce le ha Queste sono un po' diverse Cioè come nel caso Delle skin di Halloween Sono state rilasciate Per l'evento Natalizio Ma Se noi andiamo a controllare Le descrizioni Di queste skin Non viene detto Da nessuna parte Che sono skin Per un'edizione Limitata Quindi vorrebbe dire Semplicemente Che erano Un Che erano un set Di skin Rilasciate Per il periodo Natalizio Ma che potrebbero Tranquillamente Tornare In questo Natale Beh ragazzi Io spero di avere tolto Un po' di dubbi Per quello che riguardano Tutte le skin Più ambite Di Fortnite Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Vi auguro ovviamente Una buonissima giornata Se state andando a scuola E mi raccomando Lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live Ciao